In prefettura si è tenuta una riunione del tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio per analizzare gli esiti dei controlli relativi al primo semestre dell'anno. Hanno partecipato anche i vertici provinciali delle forze di polizia e dei rappresentanti del comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ispettorato del lavoro. Rafforzate le attività ispettive nelle aziende del territorio con particolare riferimento al settore dell'edilizia e dell'agricoltura. Riscontrando irregolarità e violazioni di varia natura delle disposizioni afferenti alla sicurezza. Dai dati acquisiti si legge in una nota che le forze dell'ordine hanno controllato 88 aziende riscontrando nell'80% irregolarità di diversa natura che in alcuni casi 53 hanno determinato la sospensione dell'attività. Ispezionate 75 aziende sotto il profilo prettamente sanitario dall'INPS e dai vigili del fuoco. La massiccia opera di controllo ha condotto anche all'irrogazione di diverse sanzioni amministrative e ammende come conseguenza delle irregolarità accertate. Complessivamente le sanzioni amministrative ammontano a oltre mezzo milione di euro. Attenzioni puntate anche su centinaia di posizioni lavorative, 65 quelle trovate in nero. Dal report emerge anche l'assenza di iniziative di formazione e addestramento rivolte ai lavoratori, seguita dalla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e dalla mancata adozione di adeguate misure di protezione a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori. Tali risultati hanno indotto a ritenere necessario, ferma restando la prosecuzione dei controlli, a imprimere analogo impulso all'aspetto della formazione. Dalla prefettura fanno sapere inoltre che l'obiettivo delle istituzioni sarà anche quello di sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro sull'importanza che riveste la prevenzione, la pratica della sicurezza e la rigorosa osservanza della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro a tutela dell'incolumità fisica.